Il senatore Divina, dalla Trentino a Pontida oggi. Dal Trentino e dall'Alto Adige. Io sto rappresentando Bolzano, sono commissario. E la notizia buona è che abbiamo sbloccato anche il Sud Tirolo. Un quasi 5% è un risultato storico, che vuol dire che si è scancrenito il voto tedesco, il voto identitario. E questo va letto alla luce di un voto che dalla sinistra si è scollegato con questa continuità ideologica. E sulla Lega possono convergere un'infinità di pensieri. L'importante è condividere la nostra linea. E a noi, dal Brennero, che abbiamo fatto anche un consigliere a Lampedusa, siamo rappresentati. Per cui spaventiamoci per quello che ci aspetta, ma in senso positivo.